Salve gente, allora questa è una specie di vlog brevissimo in cui devo annunciarvi una cosa molto importante come molti di voi sapranno dal 9 al 17 novembre ci sarà la settima edizione del festival del film di Roma e parallelamente su YouTube nasce un progetto in cui sarò coinvolto anch'io e per me significa molto perché io sono ormai sette anni che vado ai festival da spettatore e sono costretto a stare dietro alle transenne per rimediare un autografo o fotocogliatori invece quest'anno a Roma sarò sul red carpet direttamente insieme a Barbie Xanax e intervisteremo gli attori, vi aggiorneremo in tempo reale su tutto quello che succede durante il festival e ci saranno anche altri YouTubers esperti di cinema come Victor Laszlo e altri che adesso non ricordo e tutto ciò ovviamente non sul mio canale ma sul canale nato appositamente per l'occasione che è Festival Tube a cui vi dovete iscrivere se siete appassionati di cinema e se volete essere aggiornati da noi su tutto quello che succederà durante questo festival sarà il canale ufficiale del festival, infatti abbiamo l'appoggio del direttore Marco Müller e della madrina Cristiana Capotondi di cui sul canale trovate già un video in cui spiega tutto il progetto molto meglio di me e infatti l'ho visto qualche ora fa e è stato figo perché annuncia anche i nostri nomi c'è lei che dice ah ci saranno Barbie Xanax, Alberto Pagnotta sul red carpet figo, è stato bello, emozionante sentire lei che pronunciava il mio nome e quindi tutto qua, seguiteci su Festival Tube e se avete l'occasione di capitare a Roma passateci a trovare lì all'auditorium Parco della Musica dal 9 al 17 novembre ciao